C'è una memoria fisica che si ricorda da dove vieni. Se solo tieni la mano di qualcuno, svilupperai runa nubanda. La memoria fisica, oltre un certo punto, quello che raccogli, causerà un certo livello di confusione. Molti di voi lo hanno notato. In alcuni giorni il vostro corpo sembra essere confuso. Quindi abbiamo creato vari sistemi per ripulire. Parlavamo di quello che viene chiamato runa nubanda, che significa una certa memoria fisica. Il corpo ha una sua memoria. Oggi ci sono molti esperimenti che dimostrano in parte alcune di queste cose. Diciamo che a tuo padre ok, sto scegliendo lui perché ho pensato che non ti dispiacerà. Tu padre diciamo che quando era bambino a lui piacevano gli oggetti rotondi. Giocava con sassi rotondi. Questo rotondo, quello rotondo. Diciamo che sviluppò un certo livello di coinvolgimento al riguardo. Quando crescerai, senza sapere perché, cominceranno a piacerti le cose rotonde. forse crescendo non troverai più sassi. Quindi sceglierai qualcos'altro. Qualunque cosa tu scelga, tenderai a scegliere quel tipo di cosa. Queste cose sono provate ed è al di là di ogni dubbio che queste ripetizioni avvengono. Questo è semplicemente perché sei portatore di un certo materiale genetico. Runanobandha significa la memoria fisica che ti porti dentro. Questo può accadere a causa di relazioni di sangue. Questo può anche accadere a causa di relazioni sessuali. Quel corpo ha una certa memoria. Runanobandha non è come i fattori genetici che vengono trasmessi dai genitori ai figli. Non a quel livello. C'è una memoria fisica che ricorda da dove vieni. Non necessariamente in termini del colore della tua pelle, della forma del tuo naso, di come sei fatto, della tua razza. Non questo. È solo che se solo tieni la mano di qualcuno si sviluppa Runanobandha. Ecco perché in India se vieni la gente farà così. Non vogliono fare così. Ti esprimeranno affetto così. E ci sono molte cose. Non ti daranno certe sostanze. Nessuno ti darà del sale o riceverà del sale da te. Se provi a dargli del sale ti diranno mettilo qui. Non vogliono prenderlo dalle tue mani. Il til o i semi di sesamo non lo prenderanno da te. Certi tipi di terra nessuno li riceverà da te. Se vuoi dare della terra a qualcuno, qualsiasi tipo di terra, ci sono dei rituali in cui la terra viene data. Tu la metti sempre giù. Io la raccoglierò da lì. Non prenderla mai dalle mani di qualcuno perché svilupperai Runanobanda. La memoria fisica oltre un certo punto questo è quello che raccogli. Causerà un certo livello di confusione. Confusione non qui. Questa confusione è una cosa diversa. Quello è qualcosa che ti sei guadagnato. Ma la confusione è fisica. Se il corpo è confuso non può rilassarsi. Molto di voi lo hanno notato. In alcuni giorni il vostro corpo sembra essere confuso. Lo avete notato? Ovunque ti siedi in qualche modo. Un altro giorno ti siedi... Quindi abbiamo creato vari sistemi per la purificazione. Uno è il bagno di fuoco. Il bagno d'aria. Davvero. Certamente. Un bagno nell'acqua ogni giorno. Quando... Sai, quando ero nel mio... Un periodo in cui facevo molta sadhana. Facevo dalle 5 alle 7 docce al giorno. Perché il tuo sistema diventa così sensibile. ti siedi su questo cuscino. Ora sei cosciente di quello che il cuscino ti sta facendo. Quindi vuoi lavarti. Anche solo con acqua che scorre sul tuo corpo. Dalle 5 alle 7 volte al giorno. Questo non è qualcosa di calcolato. Io devo farlo 5 volte o 7 volte. Ogni volta che ti senti di farlo. la maggior parte degli yogi fanno almeno due docce al giorno. Come minimo. Di solito è un bagno nel fiume. Almeno una volta ti bagni nell'acqua corrente. Così che ti lavi bene. Coloro che fanno sadhana. anche oggi nell'ashram a nessuno dei brahmachari è permesso lavare i propri vestiti in luoghi comuni ad altri. Ognuno lava i propri vestiti separatamente. Quindi non possiamo mettere lì una lavatrice e mettere i vestiti di tutti assieme. Sarebbe più facile. Ma non lo facciamo perché tutti loro stanno facendo sadhana e ognuno ha le sue caratteristiche specifiche. Non vogliamo che si mischi tutto perché non funzionerebbe. Se dovessimo mischiarli a ogni lavaggio dovremmo ricoprirli con della terra probabilmente non lo sai tutti i sadhu e i sannyasi usano sempre del fango setacciato molto finemente per colorare i propri vestiti. L'intero ashram è dipinto così perché usiamo solo il suolo ok? Suolo con un certo un certo adesivo si attacca come la vernice e tutti gli edifici nell'ashram sono stati dipinti così e tutti i sadhu sannyasi e coloro che sono in un cammino spirituale lavano i propri vestiti con terra rossa terra setacciata si lavano con essa quindi questo è il perché del colore è così che viene quindi o devi lavare separatamente oppure ogni volta devi cospargerli con il suolo così che il runa nubanda l'unico runa nubanda che hai sia con la terra non con persone intorno a te non con cose intorno a te solo con il pianeta questo va bene perché se indossi vestiti perché la parola suolo qui è usata in modo diverso se indossi vestiti imbrattati no non così immersi nella terra rossa se indossi questi vestiti in qualche modo è come ricordare al corpo da dove proviene e dove andrà quindi coloro che sono nel cammino spirituale usano sempre vestiti che sono stati immersi nella terra rossa setacciata in realtà sono vestiti bianchi che hanno preso il colore del fango perché sono stati costantemente lavati con terra setacciata